La difficoltà nell'avere persone che decidono di vivere in montagna è davvero grande nei nostri territori, ma non solo, anche nelle piccole frazioni dei paesi più ricchi. E questo vuol dire avere l'esigenza di tenere aperti i locali, attività commerciali, tutto ciò che permette ad un paese di restare vivo. Ed è per questo che nasce in Molise il reddito di residenza. 700 euro per chi decide di vivere in un paese e decide di creare un'attività commerciale che possa essere di supporto a tutti gli abitanti del territorio. 700 euro per 5 anni, una scelta che vuole incentivare quindi la crescita e ridurre l'abbandono delle zone più disagiate del territorio. Questa è un'idea che è partita in Molise, un'idea che potrebbe essere prodotta sul nostro territorio, magari anche integrandola con delle figure diverse, anche quella di una sorta di badante territoriale che si occupa di seguire tutto un territorio e gli anziani con tutte le loro esigenze, i trasporti, gli acquisti, le medicine, magari anche con qualche competenza sanitaria per sopperire a quella distanza che c'è tra i piccoli paesi dell'Appennino e le strutture sanitarie, ma anche le ambulanze che sono spesso distanti, diverse decine di minuti, quindi competenze che possono andare dal primo soccorso all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Insomma, una buona idea che cerca di portare avanti delle soluzioni, peraltro spesso le risorse non sono solamente quelle che vediamo che arrivano dallo Stato, ma la montagna e certi territori hanno anche delle risorse proprie come quelle delle comunaglie che potrebbero essere utilizzate più che per finanziare restauri di palazzi o di strutture per incentivare nuove famiglie con bambini a venire ad abitare in montagna, perché il problema non è solamente riportare i servizi in montagna, ma riportare i bambini in montagna e purtroppo non solamente in montagna, perché come ha detto pochi giorni fa nel incontro di Cernobbio, anche un importante economista, il problema oggi dell'Occidente è riuscire ad avere più bambini. Non bastano due figli a coppia, ma ce ne vogliono molti di più, ed è questa la sfida del futuro dei nostri territori. Speriamo che questa bella iniziativa del Molise, che è nata in un'amministrazione di centrodestra e sostenuta da un governo, sostenuto dalla Lega quindi anche di centrodestra, sia sostenuto anche dal nuovo governo che speriamo non sia centrato troppo solamente sui contesti urbani più importanti.